Nuovo sopralluogo nelle zone alluvionate di Livorno del commissario alla ricostruzione presidente della regione toscana Enrico Rossi per fare il punto della situazione. In cinque mesi sono 140 le opere concluse o in corso di conclusione per un importo complessivo di 29 milioni di euro. Però adesso servono altre risorse per dare un sostegno a famiglie e imprese colpite dall'alluvione. Per questo Regione, il comune di Livorno, quello di Colle Salvetti e di Rosignano scriveranno una lettera al Parlamento e al Governo per chiedere le risorse necessarie. Abbiamo dato un primo aiuto alle famiglie, ma alle famiglie più deboli economicamente perché non potevamo darle a tutti come Regione. Abbiamo aiutato una sessantina di imprese con il microcredito. Adesso noi continueremo il nostro lavoro, ma spetta al Parlamento e spetta al Governo dare un rimborso a imprese e famiglie che altrimenti continueranno a versare in difficoltà. Il commissario Rossi si è recato a Quercianella, alla foce del Chioma, dove è stato ultimato il ponte. Poi a Salviano, vicino alla foce del Rio Maggiore, dove entro due mesi è prevista la conclusione dei lavori per la realizzazione di un muro in cemento armato. Intanto riaprirà il traffico a senso alternato via Popogna. Per quanto riguarda la riduzione del rischio, Rossi ha poi fissato per l'inizio di giugno il termine ultimo per la presentazione dei progetti. Così da appaltare gli ultimi lavori per complessivi ulteriori 30 milioni di euro, soprattutto per gli interventi che riguardano il Rio Maggiore, Lugione e Rio Ardenza.